segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te prego orru prenda la parola non ci fermi vada gli altri abbassiamo questa cosa giovanni è un argomento di una delicatezza e di una complessità estrema io sento tante urla tantissime sento l'urla del settore sento le urla degli ucraini sento le urla di tutti ora il problema fondamentale secondo me dal mio punto di vista questo l'europa si è svegliata tardi ha fatto quinto fa più massimo il temporeggiatore ed è arrivata tardi l'italia bisogna fare qualcosa perché qua stiamo veramente rischiando la sfissia e sfiorando la distopia ora siccome io ho il presentimento che se continuiamo così in distopia ci finiamo dritti dritti cos'è la distopia è tutto il nostro peggiore incubo è tutto quello che di cui noi abbiamo paura si realizzano gli incubi e io ho paura che quest'incubo idealizzato alla fine non lo toccheremo con mano lo stiamo già iniziando a toccare adesso serve un rimedio e serve veloce perché non ne possiamo professoressa colarizzi cartello